Servizio, amicizia, pace e natura visti dai Rotariani e dagli Scouta. L'interessante forum si terrà domenica prossima dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 all'auditorio Cianfarani del Museo La Cevitella di Chieti e l'organizzatore Aurelio Bigi. Quattro temi di estrema attualità. Per ogni tema vi è un esponente Rotariano e un capo scout nazionale della GESH, dell'FSE, del CNJ, del MASH, che esporranno come loro vivono questi quattro argomenti. Questo a sottolineare che al di là delle apparenze, immaginiamoci lo Scout, Panderoncino Corto, l'essenzialità, il Rotary, magari giacca e cravatta, in fondo hanno diversi punti in comune. Ecco, il senso dell'amicizia, la natura che oggigiorno interessa tutti, ma che per lo scoutismo è un punto irrinunciabile e aborigine, diciamo, e altrettanto dicasi per il Rotary, è la pace. Diciamo che forum del genere ritengo che non se ne siano mai tenuti in Italia.